AutoPostale vi dà il benvenuto a bordo e vi augura un piacevole viaggio in direzione di Bissone Autostrada. Paradiso Riva Paradiso. Paradiso Stazione Scuole. Paradiso Stazione FFS. Paradiso La Sguancia. Pambio Noranco Posta. Pambio Noranco Ija. Scairolo Bivio. Grancia Centro Lugano Sud. Grancia Centro Commerciale 2. Grancia Paese. Grancia Molini di Grancia. Barbengo Baldoria. Barbengo Sidema. Barbengo Via Balconi. Barbengo Scuole. Barbengo Tassera. Casoro Paese. Figino Posta. Figino Dogana. Morcote Preda dei Bucchi. Morcote Cantine. Morcote La Canva. Morcote Burò. Morcote Vedo. Morcote Arbostora. Morcote Arbostora. Morcote Parco Scherer. Morcote Piazza Grande. Morcote Casa Per Anziani. Olivella Lago. Olivella Lago. Vico Morcote Colombaio. Morcote Colombaio. Morcote Villa Magnoglia. Morcote Cantine. Morcote Piazza Moretti. Melide Stazione. Prossima e ultima fermata. Bissone Autostrada. Vi ringraziamo per aver viaggiato con Autopostale. Arrivederci.